Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Buonasera dalla strassigna provenendo da Firenze. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Firenzuola e il Bivio con la variante di Vali con la Quercia. A Firenze dal 30 gennaio al via al primo cantiere di Publiacqua in Viale Lavagnini tra Viale Strozzi e Vialeone Decimo. Informazioni sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie per la visione!